PM Tendaggi. Da 40 anni mette a tua disposizione tessuti e tendaggi perfetti, offrendo le migliori proposte studiate nei minimi dettagli. Grazie alla nostra competenza e professionalità acquisita nel tempo, vestiamo la tua casa, dalle tende ai tappeti, dalla cuscineria agli accessori d'arredo, non tralasciando trapunte, lenzuola, plaid, piumini e tanto altro. Visita il nostro ampio showroom. Siamo ad Acerra in via Pietrabianca 23, telefono 081 885 79 24. Siamo anche su Facebook e Instagram.